Valla Armando! Valla Armando! Vai Armando Dai 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 che ce l'hai Dai 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 Armando Ok così Dai dai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ok Ok Grazie a tutti Dai a l'anno, dai Un minuto Dai a l'anno Dai a l'anno Dai a l'anno E' buona terra 30 secondi Dai Bravo Avviso Dai Armando 10 secondi Ok 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 Bravo Avviso Avviso Si